Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La provincia di Treviso, che dopo verrà il Presidente a dare altre notizie circa la sua evoluzione, sia del progetto sia anche dell'idea. La provincia di Treviso ha pensato di fare un'opera importante passando da un'istituzione che era prima un manicomio, che era ormai in uno stato di degrado, completamente abbandonato, a un'altra istituzione che è in una situazione strategica, in quanto è vicino a tutte le strade delle città vicino a Treviso e per cui il fruente e la collettività può benissimo arrivarci in breve tempo e facilmente. Allora, io vorrei fare prima una premessa di cosa penso in questi casi, in questa occasione progettuale. e poi vi descriverò, farò da guida brevemente, perché girare 20 blocchi ci vuole almeno due ore, quindi da qui vi farò vedere le cose più importanti. Allora, la premessa è questa, la ricerca in architettura è un costante tentativo al più alto grado culturale e umanistico. Ritornare a un'architettura sensibile e creativa tenta alle caratteristiche di ciascun territorio e i suoi paesaggi, rispettosa delle abitudini delle genti e delle peculiarità climatiche. Quindi il lavorare con l'architettura in separazione dei luoghi non è possibile, specie qui che c'è un parco, è una situazione eccezionale dal punto di vista ambientale, perché ci sono due fiumi che nascono poi a nord e a sud e abbracciano in pratica il parco, che è un parco di circa 14 eteri dove ci sono gli edifici e più 66 attorno, quindi è un parco che ha il servizio di tutta la provincia, il territorio. E allora, la ricerca è nel progettare con una visione fantastica e sperimentale, perché come Albert Einstein solleva a dire, la fantasia è più importante della scienza, ma anche con una costante capacità interpretativa del passato, del presente e del futuro, la ricerca va fatta in libertà e autonomia, lontana da mode ricorrenti, sempre più diffuse e sempre più di breve durata, inclusa a quella che vede l'abbraccio totale all'universo virtuale creato dall'informatica. Adesso si fa tutto il render, tutto è bello, quando è costruito invece è diverso. Penso che l'immergersi completamente in esso ci farà rischiare di perdere la nozione delle tracce che lasceremo nella storia. Il compito dell'architetto è di progettare e costruire non per se stesso, ma per l'uomo, non dimenticando che la casa e la città devono in primis relazionarsi e confrontarsi con l'ambiente. L'intenzione del progettista è quella di produrre patrimoni urbani o di difenderli, nel caso di ristrutturazione di cose che hanno una loro storia, realizzando nel contempo paesaggi culturali integrati. Ecco, io penso che questa sia la mia idea nel costruire, nel progettare. Qui l'occasione era veramente appetitosa, perché un ambiente di questo genere, con i parchi già costruiti, molto semplice, secondo una regola cartesiana, era semplicissimo intervenire, secondo me. Il complesso, nei primissimi anni del secolo scorso, come dicevo prima, è articolato in 20 padiglioni immersi nel verde. Allora possiamo andare avanti. Ecco qui, come vedete, c'è il blocco con tutti i cosi. Si è costruita una bretella verso l'autostrada e una bretella dalla città con un sottopasso ferroviario. Immersi nel verde di un parco monumentale, è inserito in una cornice di altissima qualità ambientale, è stato riconvertito a sede istituzionale della provincia di Treviso. In pratica, un recupero di una istituzione trevisiana con un'altra. E l'organismo così trasformato ad altra destinazione, possiamo andare avanti. Questa è la prima idea. Quelle che vedete in rosso sono i corpi che sono stati aggiunti, però sono delle protesi, diciamo. Cioè, la parte quella in nero è quella esistente. Dove si è aggiunto, le giunzioni sono state differenziate e costruite con materiali diversi, in modo da leggere, diciamo, il passato e il presente. L'organismo così trasformato ad altra destinazione è pensato per relazionarsi al meglio con l'ambiente che lo avvolge. Indirizzando, andiamo avanti, perché questi sono i progetti, diciamo, possiamo andare avanti. Ecco qui. Qui è il progetto, cioè, si arriva da nord, il parcheggio che è schermato, è suddiviso secondo delle stanze, cioè le macchine, il piazzale delle macchine non è, diciamo, completamente, non è un piazzale assolato, ma è suddiviso proprio in sezioni, in maniera che c'è la schermatura quasi totale di quello che è, diciamo, il parcheggio. Poi si entra, e qui si entra nella parte dell'ex manicomio, che è stata anche un ospite, ha visto anche un ospite illustre, che era il pittore, o fra l'altro, il pittore Gino Rossi, che è il maggior pittore del novecento, diciamo, trevigiano. E dunque, si è fatto al meglio con l'ambiente che lo avvolge, indirizzando l'utilizzatore al dialogo con il parco e con l'impianto architettonico. Citando Valery, con l'architettura noi stiamo, ci muoviamo, viviamo nell'opera dell'uomo. Qui i blocchi sono stati riuniti, possiamo andare avanti. Beh, come vedete, qui è la parte centrale dove siamo noi. Questa è ricostruita ex novo e il foyer ricorda un po' il Salone Veneto con il ballatoio, cioè il Salone delle Feste veneziano, seppur ricreato in una maniera, con una tecnologia moderna, in sostanza, l'acciaio e il vetro. Possiamo andare avanti. Ecco qui il complesso visto dall'alto. Si vede la parte, quella lì, diciamo, centrale, dove c'è la presidenza. E poi tutti i blocchi sono collegati con delle passerelle aeree. E perché questo? Perché da sotto il parco rimane completamente visibile, non c'è un blocco di chiusura, ma è sempre aperto, dappertutto. E si sono in pratica creati degli spazi interni quasi claustrali, diciamo. Ecco. E poi il... come vi dicevo, sono... questa prima parte che vedete sono 14 etteri. Ad est ci sono altri 66 etteri di terreno. E... come possiamo vedere adesso, questa è la sede della presidenza. All'ingresso è stato utilizzato dei residuati della costruzione. Questi blocchi erano delle travi molto grandi. E' stato costruito in pratica una... il... una specie di... spirale, la spirale logaritmica che ricorda il nautilus che è una conchiglia che cresce secondo la sezione aurea. i colori che voi all'ingresso vedete è un peccato non poterla vedere dall'alto perché è una cosa gioiosa e... i colori ricordano lo spettro solare o il colore dell'arcobaleno. Possiamo andare avanti. Questi sono dei dettagli. Questa è la parte della... di sopra vi è l'aula consigliare che ha una forma seppur quadrata ma è dentro come una specie di cassa armonica di un violino un grande violino diciamo. Qui è stata restaurata la ciminiera e si è fatto anche se può interessare una cosa molto tecnica si è ricorso anche ad un intervento di con dei disfasori a livello come fanno nei paesi con molta sismicità e con dei disfasori che assorbono il moto sussuttorio e un duratorio del sisma. Ecco qui questi collegamenti aerei che in pratica collegano un blocco all'altro è una passeggiata attraverso il verde perché il verde arriva all'altezza e è stata anche fortunosa questa soluzione perché tutti gli ambienti di prima avevano una quota molto alta e quindi si poteva fare questi collegamenti perché i visi del fuoco dovevano entrare quindi dovevamo avere un'altezza minima di 4 metri e mezzo e quindi anche questi collegamenti non hanno anche sotto l'aspetto della sicurezza non hanno dato alcun problema come vedete le parti murarie possiamo andare avanti sono tutte quelle nuove sono distinte da quelle si distinguono da quelle da quelle vecchie andiamo avanti questi sono i collegamenti aerei questo è il collegamento più lungo che collega la parte presidenziale a questo blocco questa è la ciminiera che è stata completamente proprio l'obelisco diciamo dell'insieme è stata completamente restaurata questo è quel salone che dicevo prima che è il foyer e ricorda appunto il salone con il balatoio era previsto in fondo anche un mosaico che però non si è fatto perché c'è una legge che dovrebbe del 2% che dovrebbe mettere si dovrebbe mettere in appalto il bello e però ormai non è più osservata perché non rientra mai alla fine nel budget e allora va in pratica a vanificarsi anche ecco un'altra vista del salone e siamo quasi alla fine questo è la sala consigliare con continua quella struttura del foyer questo buco che vedete sulla sulla mia destra si può dalla sala consigliare un canocchiale verso la la ciminiera cioè da dentro si vede il fuori e un dei dettagli e alla fine diciamo questo è il blocco sono quattro grandi blocchi degli uffici e hanno delle passerelle cioè la parte vecchia è quella sulla destra la parte nuova sulla sinistra proprio distinta in maniera tale è collegata solo da un vetro e dei ponti sarebbe necessario che vederla anche quando avrete un po' di tempo siete liberi dalla scuola potrete andare a vedere perché penso sia interessante anche vedere questa cosa e qui finisce il mio il mio il mio intervento bene io credo che sia stato intanto ringrazio l'architetto Tony Follina e poi sempre questa modalità molto discreta molto di basso profilo quando racconta le sue cose che invece a mio modestissimo parere sono cose importantissime io credo che tutti noi siamo orgogliosi che sia stato recuperato questo grande ambiente questo grande spazio che era in stato di abbandono da molti anni che era oggetto di attenzione da parte della speculazione ovviamente perché immaginate qui se fossero stati costruiti alloggi appartamenti immaginate il costo in un parco del genere che avrebbero avuto che avrebbero comportato il fatto che questa sia diventata invece giustamente a di là delle visioni partitiche che ciascuno di noi ha la casa dei trevigiani credo che questo ci riempia del orgoglio e merito va assolutamente anche all'architetto Follina e alla concezione del recupero degli spazi ma se mi permettete senza abusare la concezione anche del bello che che sottintende ai suoi lavori grazie ancora architetto bene grazie grazie